clizia in corvaia e paolo ciavarro saranno marito e moglie di recente l'influencer siciliana ha raccontato che la tanto attesa proposta di matrimonio del volto di forum è giunta ora non resta che mettere a punto tutti i preparativi delle nozze conversando su instagram con i fan clizia ha rivelato diversi dettagli sul tema inoltre ha raccontato di avere un'idea ben chiara sulla scelta dell'abito nuziale scelta che appare tanto originale quanto folle già decisi anche i testimoni e chi farà da damigella e paggetto capitolo testimoni la in corvaia ha riferito di aver già scelto assieme al futuro marito però per il momento bocca cucita sui nomi in quanto devono ancora essere comunicati ai diretti interessati per quel che riguarda damigelle e paggetti saranno i suoi figli nina frutto d'amore del matrimonio naufragato con francesco sarcina e gabriele frutto d'amore avuto con ciavarro quindi non la sorella micolin corvaia probabile che possa essere tra i testimoni per quel che riguarda la data dell'evento i festeggiamenti saranno tra quasi un anno i fiori d'arancio arriveranno infatti ad ottobre 2024 perché ottobre è il mese mio e del mio amore chissà che la data delle nozze non sia uno dei due compleanni il commento dell'influencer e l'abito clizia è orientata a destrutturare la tradizione che vuole la sposa in bianco al momento non scarta l'ipotesi di optare per un vestito nero esatto motivo pare che sia una delle ultime tendenze glamour la incorvaia sa bene che se alla fine deciderà per questa soluzione parecchie persone legate ai canoni conformisti balzeranno dalla sedia queste le sue parole sull'argomento semplice ed elegante l'abito da sposa nero è l'ultima tendenza vestirsi di nero per sposarsi è un'antica tradizione piemontese quindi la sposa non si veste solo di bianco un'affermazione che sicuramente farà saltare dalla sedia molte donne coloro che sognano il matrimonio da principessa in stile kate middleton o lady d per intenderci la moda dell'abito da sposa nero non è sicuramente per tutte ma non è nemmeno una tendenza così singolare o bislacca visto che l'usanza del bianco è abbastanza recente